Passione Live Next Generation ha regalato al pubblico del Campobasso Summer Festival due ore di un intenso e travolgente spettacolo ricco di energia e contaminazioni con Napoli come vera e indiscutibile protagonista. Cantata e suonata con amore viscerale degli artisti che si sono avvicendati sul palco. Il concerto nato dopo il film Passione di John Turturro con tanti big della canzone napoletana ha vissuto ora un passaggio di consegne con le nuove generazioni della musica partenopea sulla scena Dario Sansone dei Foglia, Roberto Colella della Maschera, Maldestro, Newt, Floy, Irene Scarpato e Simona Bo guidati da un capitano d'eccezione, Raiz degli Alma Megretta. È stato il suo il momento più emozionante della serata quando ha cantato Pino Daniele. Rino, Passione e Campobasso, tu sei un po' il punto di unione tra lo spettacolo di qualche anno fa e quello nuovo. Come è stato collegare questi due eventi, tutti e due eccezionali? Beh, in definitiva la prima stagione di Passione è andata, poi la banda che la produzione aveva messo su insieme anche a Turturro, ha preso altre strade su tutti i grandi artisti. Abbiamo, diciamo, preso anche altri artisti. Siamo insomma tutti impegnati in altre cose. Quando però è stata messa su quest'altra produzione mi è stato chiesto occasionalmente di fare l'ospite e quindi quando posso vengo. Perché mi diverto anche perché è la generazione subito dopo la mia, musicale napoletana subito dopo la mia. Sono tutti amici e insomma c'è un bel clima. La scaletta di Passione è un susseguirsi di emozioni, duetti e riproposizioni di classici che hanno conquistato il pubblico del festival al Parco San Giovanni. Sul palco un'energia musicale, una sintonia tra gli artisti che hanno coinvolto il pubblico con un concerto mai banale animato da interpreti che resteranno impressi nella memoria di questa edizione del festival.